può essere un portapacchi un portabici ma possono anche essere le stoviglie o soltanto ciò che può servire per l'igiene del camper della caravan della tenda beh insomma il salone del camper è l'occasione sicuramente per trascorrere una giornata curiosando fra camper caravan tende ma è anche l'occasione per trovare il proprio accessorio giusto per la propria vacanza in libertà abbiamo comprato un kit per livellare camper e per i servizi l'acqua cam e abbiamo comprato quattro sedie perché mi servivano e ce l'avevo rotto e poi ho comprato un bel bastone molto comodo per non lavarlo sempre con la spugna fiera molto bella sempre camper bellissimi cercavamo degli accessori della fiamma che abbiamo chiesto sono stato molto gentili ci hanno detto praticamente tutto quello che dovevamo sapere abbiamo acquistato delle pentole perché avevamo bisogno era un prodotto che ci serviva la scopa magica mia moglie l'ha comprata è più le bottiglie per il cane siamo in fiera per vedere un po di novità siamo in fiera per acquistare un po di accessori per il nostro mezzo accessori minuterie da accessori per il bagno il vc accessori per per la tenda esterna del carava ecco robetta da poco grazie a tutti grazie a tutti